Sembra inevitabile la realizzazione dell'impianto di compostaggio nell'ex stir. Infatti pare che la regione abbia dato disponibilità di cassa per rimuovere il pattume allo stir, permettendo quindi poi di costruire la nuova piattaforma. L'anticipo dei fondi sarebbe pronto per essere dato alla provincia e ad ecoambiente. Il tutto lo se vince sul Burk Campania, dove è stato pubblicato lo schema di convenzione che sarà poi sottoscritto, probabilmente nelle prossime settimane. Sono fondi anticipati dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Su proposta della struttura di missione per lo smattimento dei rifiuti stoccati in valle, la regione sarebbe pronta quindi ad anticipare 8,3 milioni alla Ecoambiente e alla Sapna per svuotare le aree degli stir di Battipaglia e di Tufino.